Nuova parte su Pokémon Glazed Allora, ho fatto un attimo veloce anche meno, non facciamo tutto il tragitto Tra l'altro, l'ultima volta mi sono interrogato sul perché vedevo la luce semplicemente perché ho trovato una lanterna, bene Ora, visto che non c'è un'altra strada, ho detto, ma proviamo a vedere su quelle rocce, infatti se uso il disillusio come potremmo chiamarla? La nulle, annulla illusioni, ecco Ok, salviamo che fuck off c'è un intruso qua Salviamo, no, beh no, no, non salvo Non so chi tu sia Ah, magari sei solo un ragazzino che sta passando lì qua per caso Non ho tempo che tu D, cioè D sarebbe cioè, vabbè conversare mettiamola così, dai Meddling Kid, ragazzino Grants Sì Distruggi questo bambino Bambino, vabbè Con molto piacere Ah, partiamo bene Team Fusion Machamp Ah, cazzo, mi servirà becoso Vabbè Mettiamo Tra l'altro preso su Hunter Che cazzo è il 31 Ok Muori, ti prego Non so chi metta Non ho Oh, ok Spero di aprire i tasti Scusate Ok Ah, con Keldur Vabbè Morto Anche lì in un colpo Fools Pazzi Ehm Allora Ah, ha lui Zoroark Capito Capito No, facciamo Non è un Water Gun Sì che tra l'altro È molto più debole di me Questo Zoroark Però sono curioso di mandare un Hunter E vedere Se tipo È super efficace o cosa No, infatti È il contrario È il buio Che è super efficace Contro lo Psico Mi sembra Ma questo coppolo era Fantasma Eh, sono tutti Fantasma Cazzo Vabbè Vabbè Lasciamo lui E Facciamo lì Knight Cos'è un bra notturna Ok, è stato sufficiente Yeah Dammit all Abbiamo vinto Potrei anche Aver vinto Questa battaglia Abbiamo Avuto Abbastanza Informazioni Ehm Per considerare Questo viaggio Worthwhile Non so cosa vuol dire Penso sufficiente Visto che dice Avevo abbastanza Informazioni Quindi è contento Vabbè Ehm La persona che ti vedremo Interferire Ehm Ahahah 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 La persona che ti farò fuori Finalmente Velocemente Che non capirai Neanche cosa L'ha colpito E' tutto per oggi Andiamo My cell phone Is ringing Eh Can you hear me? Sì Ehm Su patch up Ho messo una patch Perché c'era un bug Figa che Che comico Che sono Comunque Ha liberato la barca Ehm Al meglio delle sue abilità Sì Sì Sei in grado di Prenderti cura Tra virgolette Del team fusion Excellent Ehm Vabbè Mi aspetta la barca Perfetto Torniamo Alla barca Allora Sì Ah Proprio Le illusioni Rimacono sempre Vabbè Non penso Sarebbe difficile Triggerare Delle illusioni Mi ha visto comunque Fatto abbastanza bene Questo gioco Perché per ora Non ho Visto alcun bug A parte quello Del Del professore Che respawna Prima del Del milkshake Swamp Però vabbè Ehm Esatto Perfettamente in tempo Ho appena riparato Sì Ok Sono pronto Sì Vabbè Non sto guardando Perché non lo voglio Ma sei stato davvero Spettacolare Di fuori Flusso Eh Se non era per te Non voglio neanche immaginare Cosa sarebbe successo Perfavore Prendi questo Come un piccolo Ah Un SIS Che cazzo è SIS Preitix Ma dei nomi più facili No Non è Non è Non è Non è molto Non è molto Ma Ah un ticket To SIS Preitown I take my I to my But If you No And if you Will do double Ok Ciao ciao Ok direi che andiamo a Six Six Preitown Ok Ah Ancora tu Shell Che non so come si dice ancora Però fa niente Eh What a shock To see you here Luca I beat Sparky And now Terry Difessore del Chelsea Eh Sì Ah ti sei voluto in Bailiff Ah cazzo Però io Ho primo Eh infatti Ci ho primo lui Cazzo Non va bene Mettiamo l'uccello Bastare Mi ha venenato Muori Ora chi mette È Raichu Quindi mettiamo Giustamente Marshtrop E mettiamo Il Mudshot Ok Una cosa mi dice Ah You think you are clever But my Pokemon Are just weak Ah ok Pensi di essere forte Ma i miei Pokemon Sono indeboliti Per la battaglia Ehm Ok Il If you Can Ok Cazzo Adesso quarta medaglia Mi ha detto che La capopalestra Non Allora Fermo Finisco di parlare Poi tu ti fai i tuoi dialoghi Ok gioco Bene Comunque dicevo Mi ha detto di andare a cercare La capopalestra Perché a quanto pare Non è più in palestra Per lo scontro con lei Oh Not again Ah Te trasporto Newport Richey Che diavoli Posta è questo Allora lì c'è il tipo Auto Non ho mai Non credo avermi visto auto In un gioco di Pokemon No Magari mi sbaglio Hai Chi sei innata Sei timida Fisherman I like to fish for fun I always watch Related the fish I catch Attack me What's that Aspetta un attimo Aspetta un attimo Ah Perché io giustamente Di chiedo Dei Pokemon Che L'attaccano Però non capisce Come i Pokemon Si I pesci possono Attaccarlo Ok Diciamo che Me lo sono leggermente Spoilerato un attimo Scusate ma sto per stare utile No Spoilerato nella parola giusta Che nella sua descrizione Oh fuck Probabilmente questo gioco Ha due mondi Il mondo dei Pokemon E il mondo reale Quindi questo Credo sia il mondo reale Ma ho dei dubbi E questo qua È un grosso dubbio Allora Come on Wolfie You can go back Inside until you Go pee Cioè No ma It's a pochina I think No Non è un pochina Sta cosa È Un azelf Quello che è No vabbè Cioè no Aspetta un attimo Tu in pratica Mi stai dicendo che Hai preso La sprite di Azelf Quello che è Scusate ma non me lo ricordo L'hai voluta Fare intendere Come se fosse Un pochina Però non è un pochina Perché In realtà È solo un cane normale Che sta pisciando Va bene Ah Giustamente Nelle case Comuni Ok Dice che non devo andare Molto lontano Nelle case comuni Giustamente Non posso entrare Perché Esiste la regola Della proprietà privata Non so se la conoscete Voi della Greenfic Ma è così Infatti è chiusa E giustamente Non appare con lui Ciao Mumble Grumble Where are my keys Questa è la mia casa Flusso Mi è spaventato Non farlo di nuovo Per favore Immagino Per Per No Sì vabbè Risposto domande Perché non mi ricordo Adesso il volo Allora Allora i nostri universi non sono aspetta guarda che forza cioè normalmente non sarebbero convenzi ma una grande forza sta li sta attraendo vicini cioè li sta avvicinando insomma non so cosa sia la causa di ciò ma ho il presentimento che sei un po' come un leggendario dal tuo mondo ma non ha senso just like you come te sono capace di viaggiare tra i nostri universi e ho avuto il controllo di farlo quando voglio praticamente come te ho mostrato la prima volta sono arrivato si ok le persone qua non conoscono il pokemon non posso lasciare che le persone trovino i pokemon posso credere in te per un grande compito task che dovrebbe essere tipo sì compito il task manager di windows sarebbe quello dei va bene lasciamo stare dai troppo cosa troppa nerd non posso mantenere diciamo controllo forse su quello che sta accadendo in alto mondo per favore fammi rapporto su su quello che sta succedendo se gli universi si stanno unendo penso penso tu voglia tornare a casa scusate mi sono sofferto dal naso il portale per il tuo mondo si è chiuso but è molto probabile che si riappirà guarda cioè dove ti sei arrivato in pratica ok devo riguardare dove sono arrivato tu chi sei? ok magari qua e qua ok troppo sono troppo fuori zona io dovrei che sono spawnato sì qua ma no 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 what? ah a world without pokemon it must be a full a feeling ah sto facendo una considerazione sul sto facendo una considerazione sul fatto che è un mondo brutto senza pokemon in pratica ho un fibas lungo dieci piedi dieci piedi quanti sono? allora se non sbaglio un piede sono 30 centimetri quindi un fibas di 3 metri se ho fatto giusto la conversione questi cazzi però se trovo un fibas sarebbe interessante eh? questa non l'ho capita vabbè anche se stai guidando una barca una barca una bici pokemon possono salire su di te eh vabbè però di fronte a una barca che senso ha? lasciamo perdere mart che sia un market fuma di meno ti prego ok uno storsi infatti ennesima interruzione non dovuta a me però stavolta comunque andiamo avanti vedessi tu con il signo vuoi qualcosa a dire ah ok penso vorreste comprare un signo qui no non ha senso ah qua l'ascensore vediamo quanti piani ha 5 piani anche qua vabbè al secondo cosa vendono? oh le ultra ok vado a spendere tutti i miei soldi ma va bene intanto ho un modo veloce per fare soldi ah 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 escape rope solo una ok vi faccio vedere come si fanno a fare tanti soldi dove sono? ecco come fare tanti soldi intanto ce ne ho infinite quindi eh non è un problema ok va bene il super repellente ok va bene il super repellente perché ho visto che facendo un attento studio matematico ed economico eh il super alla fine ti viene a costare meno ah qua ti vanno i le droghe per i pokemon ma no non mi servono oh muoviti ma cosa vendete ah le mt ok va bene non mi servono e qua cosa vengono qua ah le pietre anche la pietra solare la pietra lunare molto figo eh ma devi dar cazzo non vedi sto stronzo vabbè torniamo sotto allora poi cosa che abbiamo ancora da visitare qua queste casette vabbè 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 non è interessante mio marito vabbè ma sono tutti uguali tu non eri in casa poco fa allora rumor is that ah vabbè i rumor dicono vabbè vabbè non mi da niente interessante immagino purtroppo dai te no si scusatemi ma a volte inevitabile che io faccia faccia un po' di esplorazione non è occupata la palestra infatti uh il mare è molto piccolo comunque aspetta cosa è move ah ok il è il l'insegna mosse ah per 500 ah interessante ah interessante è un po' non so un tasche ok ok qua devo ricordarmi sto posto che può essere utile my mom è il gym nel capopalestra è è da fuori per business cioè per un affare sea spray sea spray dam cos'è il sea spray dam tu mi sai dire qualcosa vediamo un po' ah ok ah ok questo qua è un non so che cosa sia ma vabbè oh fuck allenatori oh oh questa è brutta questa è brutta questa è brutta hai fatto la scelta giusta my friend oh anche lui un riolo eh vediamo se water gun funziona ah usa sono qui ok anche lui è andato siamo su di lui stess attacchi aia e via ora mi sto chiedendo se no dai facciamo la prossima volta capito visto che siamo quasi a 18 minuti ci vediamo la prossima volta